Neve anche a Lanciano da questa mattina, sono in azione i mezzi spargisale, la viabilità a Lanciano è comunque buona, anche se un po' meno buona nella zona tra Viale Capuccini e Viale Barrella, vale a dire in alto. E a causa del maltempo, il sindaco come dicevo prima ha disposto la chiusura, la sospensione dell'attività didattica, anche se l'ordinanza è arrivata un po' tardi, già alle 8.30, disagi molto più significativi invece nel Bastese dove prima con la pioggia e il vento hanno determinato la caduta di diversi rami o addirittura alberi, si parla di 5 pini fra Vasto e San Salvo, alcuni sono caduti anche su delle macchine e poi forti mareggiate anche al porto di Punta Penna e sulla spiaggia, il sindaco di Vasto Francesco Menna ha chiuso il cimitero, la villa comunale e altre aree verdi proprio per il pericolo di caduta degli alberi. Ci sono nevicate comunque in tutto il territorio del Bastese, ci sono anche dei comuni che invece sono senza corrente elettrica da ieri sera, per esempio Schiavi d'Abruzzo e Tufillo hanno avuto delle interruzioni continue, i tecnici dell'ENL sono al lavoro.